Oggi a Cagliari la presentazione del grande centro, quali saranno i punti programmatici? Sono i punti programmatici fondamentali per il rilancio di ciò che non funziona, per il miglioramento di ciò che oggi è traino dell'economia e della società sarda, tutti quanti rivisitati in chiave autonomista, in chiave identitaria, in chiave di poteri per la Sardegna. È grande la nostra diffusione, la grande partecipazione, soprattutto tra gli amministratori locali e soprattutto nei piccoli comuni e nelle realtà dove più forte è la necessità di confronto tra chi amministra i territori e i cittadini. Questa è la base del nostro impegno politico e la base su cui poggiamo la costruzione di questo progetto. Questo grande centro noi lo identifichiamo non come un centro geografico, ma come un centro che racconta all'anima dei sardi, che rende protagonisti i sardi e i territori. Questo è il nostro obiettivo. È un obiettivo dove vorremmo vedere una Sardegna autonomista, una Sardegna che decida in casa propria. È questo il nostro obiettivo. E infatti i dieci punti che oggi ne abbiamo declinato hanno un unico denominatore comune, quello della sovranità. Noi vorremmo che il futuro presente della regione rispondesse ai sardi, a un progetto, a un'idea, a un modello di sviluppo che noi abbiamo scritto. Quindi non deve rispondere a noi, deve rispondere veramente ai sardi.